Franco 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 Buongiorno a tutti ragazzi siamo Franco e Bairiento ben ritrovati Oggi è il day one No, non è oggi, a domani Lo so però la registrazione Eh ma perché noi ci l'abbiamo andato prima per la recensione Eh si Perché siamo dei famosi gamer Siamo Franco e Bairiento Non so se l'ho già detto E oggi siamo qui per parlarvi di Un gioco appena uscito Grandelino, non sei agitato? Aia Idiota Cash Bandico It's about time Accetto accordo Accetto accordo Accetto accordo Rifiuta? No, se rifiuti Devi leggere 20 pagine No, no, guarda come si fa Accetto Accetto accordo 24 pagine È già un... Oddio, magari c'è qualcosa anche delle pubblicazioni Devi lanciare la musica, cazzo No, partita? Guarda, ci sono 4 passaggi diversi L'unica cosa che impedisce a un gruppo di fogli scienziati di diventare padrone dello spazio e del tempo sei tu Ecco, quindi la vedo male Come mi chiamo? Fra? No, perché i numeri? FRK Cazzo, dal fondo proprio Guardate dal fondo FRK Ah no, la R, oddio R, P, Q, R, A Va bene? AK volevi? AK Frank Frank Dai, frak Allora Se non mi cominci sempre l'ultimo checkpoint consigliato Hai il numero di tratto di vite Dovrei cominciare a livello Ascolta, facciamo moderna moderna che muori sempre Muori inizio nel checkpoint Ci sta andando Lo stile di gioco non infine sulle difficoltà o sulle ricompense Puoi modificare questa opzione quando vuoi dal menu Quindi facciamo moderna? Sì, sì Perché retro è come la prima Si è consigliato moderna Sì, sì, è vero, è vero Battaglia di Bandicot, a via partita, opzioni Opzioni Gameplay Gameplay Stile di gioco moderno Basta la tempo, sì, ok Che bello Comandi Beh, penso che sia abbastanza Questo al solito, sì Sì, sì, ok Va bene, video Video Liberazione telecamera Motion blur Sì, sì, tutto a posto, tutto a posto, ok L'altonismo No Due musica, ok Sottitoli Sì, deve essere in testo Medio Ehm, medio Ma piccolo Ma piccolo, ma piccolo va bene, Franca Piccolo Si vede, cazzo Fabrizio ha visto Macra grittando di YouTube per il mio Che stile testo buono Fabrizio, va bene Che è Fabrizio? Non lo so Ah, per... Opacità sfondo? No Dai Ok 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 A posto Va bene Fabrizio Abbia partita Ragazzi iniziamo adesso Questo è il day zero Uh, scurri svegli Nino Non mi toccare con quelle mani litighe, sennò ti tocco eh Piantala Uuuuh, sei viscido, anche coi piedi mi tocchi E dai Mi dai molto fastidio quando mi tocchi Dobbiamo fare delle figure di merda perché da tanto ragazzi che non gioco Crash Tanto? La trilogia mi manca eh 20 anni Poi lo prenderò Ormai sei vecchia come il cucco te Gah Non sono vecchia, senti come giovanile la mia voce No, c'è una voce di culo Sss Rush venticult Finalmente io, il grande neocortex, ti ho messo alle strette Va bene E ora il colpo finale Ma dai Era un fantoccio Da ci va bene Ho aperto una finita Ma è morto? Lascialo Ormai non ci serve più No no oh, a me serve vivo quello li eh A vero che è un gioco in Italia, che era un gioco in Italia Mi piace la grafica, la parte che si era già vista, nei treni. E' Carlos? Picon sangue. Carlos, il topo che viene. Ma è sempre a PR. Oddio! Cosa è successo? Dimmi. No, sono sicura, sei entrato come ospite. Oddio! No, i bonghi, i bonghi. E' un altro bonghi. Ma come sono brava. Soffro i divertigini. E' certo. Si, ma lo sapevo già, avevo già letto come sprendevo. Davvero? Devi fare, devi scivolare, poi doppio salto, fai. Tanto è una cosa normalissima, dai. Si, abbastanza. Ma che palle. Dino andiamo? Sei pronto? Lo distruggo tutto. Guarda! Eh, gli spyro hai visto? Sii! Eh, l'hai buttato via, cretina. E' una certa gente di spyro. Eh, beh, l'abbiamo visto, però dai. Poi papà è di là, in diretta. Devo riconoscere adesso le casse, però, eh. Quelli li sono casse normali. Quelli li sono casse normali. Che c'è? Questa qui è sempre la casa di Crash, è tipo sempre a primo livello. Si, lo so. E' vero, è vero. E' stupenda. Guarda che doppio! Si, però, questo qui su Switch si sarebbe da Dio, eh. Ah, così mostro la HUD. Questo qui su Switch da Dio. Queste cose? Niente. Ah, c'è anche un mi casco. Eh, va bene. Ah, sono già morta? No? E c'è il contattore di una morte, tu devi fare i livelli senza morire. Sì, è vero. Eh, va bene. Cazzo devi fare tutto. Si. Eh, certo. Ma non c'è mai morire a primo livello. Ma perché stavo provando i Tans? Sì, dai. Non sono stupida. Un po'. Adesso ti faccio vedere come si chiama. Tanto tu non hai giocato in sé in trilogia? Eh, sì, hai qualcosa detto io della trilogia, no? Perché non l'hai giocato? Eh, non devo comprarlo. Stupido. Guarda come sono bravo. Ti ti piaciuto poi ti prendo in sé. Sì. Questa checkpoint, a me sono morta al checkpoint. A me sinceramente già piace. Viga. Eh, guarda quanto è... Anche se questo è un livello storico quello che hai. Ma quanto è brava la sine. Sì, ma perché torni indietro? Cosa guardi che torni indietro? Vai avanti. Salta sul TNT per avviare il contro rovescio, certo. Torni indietro, come se avessi paura delle cose. Qui. Tempismo, guarda. Sei peggiore. Ma questo qua è quello che va contato. Ecco. Avevo paura di non riconoscerlo, ragazzi. C'è dietro un... Eh. Ma perché? Perché? Ma porca vacca! Eh. Eh. C'è dato un altro link? Ah, ma che palle però c'hai veramente? No, veramente no, niente. Basta. No, aspetta un secondo. Vieni, vieni. Due coglioni. Tengo io al posto. Sì, parla intanto. Pronto? Ok. Celino. Vediamo un po' che provo a imparare un attimo. Ah, questo qua sì che lo faceva. Che bei ricordi, mamma mia. Bello il feeling. Bellissimo. Non voglio andare avanti perché è il suo. Però c'è già... C'è già... No, è un ragnolo. Che belle, mamma mia. Gli altri tasti poi serviranno per le... Ah, questo qui giù. Ok, sto provando il feeling. Ci sei? Ok. To, guarda, to. Beh, io ho cercato il feeling e basta. Non è molto più cammino delle più bufie. Eh, ma dopo un po' però fanno male che queste. Eh, no, però mi sono stretti. Sì. Devo tagliare oppure hai fatto qualcosa di strano? Tagli il cavolo. Ma guarda, oddio, ma cosa è successo qua? Ma che tagliare? Va avanti. Andiamo, andiamo. Quindi ho già bruciato di sicuro qualcosa per colpo della mia morte. Vabbè, dai capito. No, vabbè. faccia. Non lo faccio. Un last? Te incodimile, ma fottuto ragazzi. Ah, dai. Ma che bello Lino, ma quanti ricordi. Ci ne so. Come faccio secondo te Forse ci devo passare sotto Da là Ma è difficilissimo Vabbè ma tanto non fa niente Ui a me Lo lascio lì o lo uccido? Ma lascio lì Doppio salto Ok posso fare così Il galino Che figo bellissimo Molto male Occhio eh Cosa devo fare? Uh ok le casse rompe da solo Bellissimo Bellissimo Posso fare altre attività? Che cazzo È stato brava eh? Bellissimo Guarda come è pieno di dettagli Check point ragazzi Chi è quello lì? È un brutto Tu se vedi qualcosa dimmelo eh Oh signor Ma è bellissimo comunque è fatto molto bene Fì che cazzo è bello Ada Eh Ada sì Si è riprimuto già che besti sciare Però me l'ha fatta vedere basta come faccio a prendere? Eh ma forse perché devi arrivare lì in tempo No cazzo Pensa a praticare questo gioco Ah devo arrivare lì in tempo? No no va in giro non lo so Eh ma perché non lo so Ah cazzo Ma è che devi fare un sentino quando ho qui Si Ma c'è anche la profondità Si Occhio Eh so quella profondità ragazzi No come Dai La cassa dietro Si Yem Che rischio fa Come cazzo giochi? Come un idiota giochi No abbiamo perso Ma per Riparto da 3 Ma smetti Dove farlo io? No no Per l'amor del cielo Io sono l'amor del cielo Come giochi Da pirla Vediamo se non la farò vedere No non me l'ha mica fatto vedere Mazzo Ok adesso qua Mi devo ricordare che è a tempoli Lì è a tempoli E aspetta su lei E dove? Ah pianta Che ansia ragazzi Si madonna Cioè il primo livello Che sta dando dei problemi Il primo Lo faccio? Certo il bonus Bonus Certo il bonus Coglione Pianta 8 casse sono Oddio Partiamo già male con la profondità Con la profondità dei problemi Non so se hai notato Sono due dei problemi Punto No non avevo E là in alto Come si arriva? Dai è facile Ah si con questo lovo qua Si però in teoria Dimmi Ok Come sei intelligente Certo Io sempre sono intelligente Ma questo si può rompere No 8 di 8 c'è scritto Lo vedi? Iga Vaca quanta Ah guarda che mi sblocca le gemme Si mi sblocca le gemme delle mele Beh comunque però le abbiamo presi tutte Sarà secondaria Questo è perché ho fatto un bonus Mi sa un livello bonus Un livello bonus Un bonus Un bonusello Va 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 Ci sono i cacchio di robe Ti impulano i ragni eh No E sempre Io il totale non sono capace di tenerlo Cioè ti vedi conto che ho perso il primo livello? Cioè No Ok Ah si c'è un attimo per la sua mano ragazzi Dai Non c'è nessun problema E adesso Non vedo niente Aspetta Prima di andare avanti Un attimo Vado Semplicemente Devi rompere anche il TNT Eh se vuoi prendere il Però devi anche levarti delle palle Cazzo Ecco Madonna Però non ho presi tutte là Come facevo? Non ho preso quelle casse là E oh Come fai a prendere? È impossibile Comunque non è che devi prendere tutte le miele Devi prendere una quantità di me Ecco Ah no pensavo fosse Cosa è qua? Vai 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 Dio Spavento No ragazzi Beh con calma dai No mamma mia che bello È ben bello No Iga Io non so eh E non sai mai niente Pazzo Ci arrivi Figa Sennò va bene Sennò va a saltarci sotto Sennò ti bastarde Oddio Franca cosa stai facendo? Ma Ma Perché sei sempre obbligato? È la mia tecnica No non è la tecnica È l'ibiozia Mi hai mancatto tra gas E sono quelle là Quali? Quelle là che sono volate giù No Quelle là che sono volate giù erano due E poi comunque mi sa che te la dà E cosa fa? Vero li farò poi io offline ragazzi Sennò vai Ottimo Mi permettono di sbloccare delle skin Tienele rompendo cassa Raccogliendo bumpa Trovando gemme nascoste Completando i livelli Usando Meno tre Cosa vuol dire? Meno di tre vite Non usate quattro Dieci ne usate Non hai peccato il cazzo di extra quindi Niente Non ho bloccato il cazzo Ma sì guarda Prova tempo sbloccato Vuoi fare la prova tempo sbloccata? Ma intanto lo farà pronto per forza No vai avanti adesso Mi consenti Ah sono tutti così di fila? No Dov'è il mio telefono? Cosa mi ha scritto Aro del Bosco? Ah i giochi gratis che ci sono questo mese Vuoi salutare la mia game player? Vado lì no? Può tornare indietro? No Andiamo andiamo Quella lì è una nuova roba Le scatole Wumpa dotate Dorate Dotate Contengono 25 Wumpa E quindi? E quindi apre L'ho aperta Qua c'è un salto da fare Con la Iana Non è franca Questo gioco qui ti farà in pazzia Nini Ah come Come sono brava Un check Cosa mi lancia quello? Oddio Hai visto? Dovrei liberare potere delle maschere Dove va? Bello Dei bei tempi hai detto? Dei bei tempi Ma quello lì E' un martellato E' esploso Sinistra? Niente C'è una bananita Rosso Madonna franca Queste sono a tempo Ma fidati un po' di tua sorellina No io non mi fido Sai come prendere quella? Ci salto su Devi scivolarti Ho ruota stando fermo anche Stando fermo Qua? Sì Adesso fa l'estero Anche questa? Paurissimo di TNT Che cazzo È che io ho paura Ho difficoltà con la profondità Te l'ho detto Non chiedermi come abbia fatto Perché Cos'è? Un criceto Ci devo fare qualcosa? No Ti ha perso la forza Ok Questo ce la faccio Ma puoi anche romperlo Hai capito? Hai ragione? L'abbiamo capito Hai capito tu? Eeeh Ma non è vero Qua scompaiono Ricompaiono? Qua fa parte sicuramente D'una delle maschere Che dovrei prendere Cosa? Madonna Franco ma perché Ti vedo sempre in te C'è livello bonus Lo facciamo? Devi farli livello bonus Se lo mandai lo facciamo Lo sto scherzando Se vuoi dopo puoi giocare anche tu In altù E' un po' come vuoi E' il perché? Perché poi io Lo prendi? È sicur No non è sicur Accovacciati Però anche tipo Bordenast 3 Potrei riuscire Prima così qua sotto Ancora Non ce l'ho fatto E' lì però in alto Eh non ce l'ho fatto Sbagliato Se fa una casada Non si riesce A meno che non faccia Le mie minchiate Visto come è stata Ingegnosa Come sono stata ingegnosa Ma non sei mai morto A questo livello? No non dirlo No il bonus mi sa che non conta la morte Tutte le scatole ho preso Andiamo Ce ne sono parecchie Aline Meline Ah si Il galino ho paura qua Ne ho sbagliato Oddio Che Un infarto E con il doppio salto Cercavo di prendere tempo Ma che mossi inutili? Si Ma che mossi inutili? Oh Ok qui Si è capito che La morte sarà quasi certa Mio dio santissimo Aiutami E niente No ragazzi C'è il nuovo pannele tutte Ma la cosa C'è questo è il secondo schermo E c'è un lavoro del genere Ma lì serve la maschera Secondo me devi aspettare La maschera Che cambi tutto Davvero? Vedi che è l'avanti la maschera Devi aspettare Prendere Bello Vado alla dritto Si Devi andare alla dritto Prendere la maschera Poi se vuoi Tu non indietro Prendere le cose Perché Non ha senso Cazzo mi ha fatto anche morire Sta cazzo di maschera Si è la maschera del Boh Mi ho sbagliato Eh è vero C'è una falla senza No ma ci torni Devi tornare C'è il corner Vado a me Secondo me qua devi scappare Non sono molto abbia Non sono molto abbia Io corro Io corro Sì ma sa Difficile sapere tutto Come livello dei massi Eh lo so come livello dei massi No Hai visto cosa c'era lì Dovevo prenderla Eh beh Com'è Devo stare Devo stare solo al sinistro L'ho vista dopo Ma tutto bene Dovrebbe Dimmi se vedi qualcos'altro Come comportati bene Un check Ah c'è un altro Che ne sapevo che c'era un altro Un figlio di merda Piantala E no Tranquillamente È sempre lui Ok Dimmi se vedi qualche cosa Che devo prendere Ma io ho le scatole Check Ma perché non ho visto Che c'era il vuoto lì Tu l'hai visto Che c'era il vuoto Certo Se devi risaltare No Chissà Aro quanto mi sta prendendo Per il culo Molti qui Guardano I gameplay È vero lì no Cazzo L'ho presa E beh Questa Ero Avevo dei problemi Con le scatole Devo anche Tu muovere Faccio la scivolata Dallo più veloce No No Provaci tu Lino Provaci tu Hai ragione Quindi non riesco a prendere Questa Non è stata una Per correre via Ce l'ha fatta in modo strano Prova tempo Anche sbloccata Quindi devo fare anche Prova tempo Per Lo sai Ce ne sta un altro No Non 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 isiste non è assolutamente forte Sì La porta tra le dimensioni Sì, sì, che andrebbe tenuta chiosa Dobbiamo entrare, metterci in cerca Trovare i miei fratelli e chiudere tutto Prima che qualche imbecille con un piano E un ego smisurati faccia una monumentale sciarchezza È Nino? No, sappiamo chi è Cosa le devono usare qua Sì Accelerò il passo Stando ai miei calcoli Nemici sono già in marcia per attaccarsi Ma noi Infine Vinceremo Ah che bello Che bella ragazza Vuoi provarlo tu? Devi tentarla di toccarmi Ma proprio smetterlo Forse si possono fare... Si può giocare in quattro nelle battaglie che c'erano all'inizio Tipo Bandicott La battaglie La battaglie Questa è l'app Questo è di schermo Ah si va avanti Ah quindi questo qua era stato il primo Queste tre Queste due Questa è l'app Questa è l'app Che succede? Questa è l'app 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 Tu hai avanzato da livelli così Dove adesso è fatto molto prima Ah aspetta Questa è l'app Questa è l'app Questa è l'app Nooo lo volevo Statistiche di gioco Ma se gioca mi sa che è quello in multiplayer Prova a vedere Però tanto non è attivo adesso perchè Due giocatori Posso giocare insieme Sì Ma le statistiche di gioco ho fatto che gara vero? Di livello Tempo da battere un minuto e quaranta Non ce la farò mai lino Un minuto e venti secondi Non devo mai morire Vuoi provare il prossimo? Il primo Ah il primo Ah il picco ok Però lo tolgo questo Vuoi? No devo metterlo Classifiche Galleria Galleria Sì Un quarto d'ora Che faticaccia vado? Che bellezza Filedì Bellissimo Tra l'altro erano due schermi quelli lì Speriamo sia lungo Perchè alla fine c'è comunque Gli schermi Al massimo massimo dura 8-7-8 minuti Cosa? Ma dico il gioco insieme Speriamo se Il gioco ha detto che è lunghissimo Sì Meno male Ha detto che ha 100 livelli Wow Poi in più se lo vuoi completare al 100% ti tiene su Cioè 100 livelli sono tantissimi Cogli altri personaggi Puoi usare gli altri personaggi Dingo da Corte Dingo di longa Ma non è lunghissimo Non tanto Quindi ci servono le altre maschere per chiudere i gatti? Esatto Ora mio fratello Akano è qui da qualche parte Benvenuti al mio grande show Questi Cercavate le vostre preziose maschere? Ed ecco l'imbecille di cui parlavo Tranquillo Tra noi c'è questa dinamica consolidata Noi combattiamo non perde Non questa volta Vi ho prenaturato Un'esclusiva pass Per poter assistere Ti verso una bella specie Della norma di percussione in massa Non perdetevi l'aspettabile Pronto Vado? Vado? Sei pronto lì no? Non l'hai tolto? Non so pure Si che l'ho tolto Ma sei blocca Non hai messo conferma? Oddio Triangolo eh? Cambia mondo Ah è la famosa maschera In teoria forse sarebbe il meglio da voi In qua ma no Allora trovo Ah perchè devo far veloce a volte Certo Molte volte lo fai far veloce Non qua Perchè dicevo vo qua che cacchio me frega Inoltre sono bellissimi design e design Si davvero spettacolato Oh cazzo Qua dici? Si Design ma soprattutto Oh Cazzo di vivi Il design ma anche il Guarda che difficile eh Voglio vedere te E guarda E che io devo beccare la profondità C'è visto Santissimo Ragazzi non ce la faremo mai Questo gioco qui al 100% non ho più lento Non è che fa miglior Ma vieni più vicino che non siete un cazzo Nooo anche qua eh Nooo anche qua eh Nooo anche qua eh Nooo ancora No basta io butto dentro Ma c'è da impazzire Ragazzi Tu vuole cattinare questo gioco? Iga la franca si è evoluta eh ragazzi Si è evoluta Ma tu lo vuoi cattinare? Ma non lo so Non è privato per questo cattinare Per fare quanti più E dai qua è a fondo Ah perchè qua non cadono grazie a dio Si però Nooo Ehm va che stronzo Ehm va che stronzo Ehm va No ma ragazzi Io li vado a cercare Si però è benissimo C'è in realtà In funzionamento è molto semplice no? Ah ma anche qua posso fare così E' veramente benignale E' solo freddo però E' perchè non sono molto stabile vero? Ok calma Ok calma Però Ok Basta che vai sopra quello di me Perchè dov'è stivano in contrasto il cervello Si Si Ha un checkpoint Ma lì adesso va tu Grazie Vai calma Però Però Meno male che non ci sono venute Perchè sennò Quello di me Si Ma almeno così ora Mi facciamo venire No perchè c'è quel simbolo strano E ora se esplode così cosa succede? Qua c'è un pesce? Qua c'è un pesce? Guarda se poi in tutte le casse delle cose C'è un pesce E' un pesce Non è che per il cu E' un pesce Tempismo qua? Uno Due Troca cazzo qua c'è un problema ok il problema è che dopo dobbiamo imparizzarlo vabbè adesso provo a vedere come faccio? ah devo farlo esplodere eh? nooo ci sono piovati a farlo vai ah e questo? perché vedi che c'è quella ora lì? ah dici? eh no è perché la ora lì ah giusto mettiamo lì un po' di più nooo beh beh non è vai grande qua è il nitro bellissimo vai prova ma qua cos'è? se io ci passo via attraverso ma è una minchiata? eh no semplicemente non è una minchiata così no cazzo non so via su quella maschera non so via su quella maschera e sa chi pensi di essere con quello stupido sorriso stampato sulla macchina ah qua è un po' difficile eh? però è bellissimo sai che mi piace tanto? più degli altri mi piace qua sì calati cazzo no calati e cazzo ho sbagliato tutto e in che modo? qua che brutta morte ragazzi ho fatto bruttissimo sì è secondo me si perde gli altri perché però non hai trovato i sentiuti sentiuti o poi dopo lo riprenderò ok con cerchio devo covacciare adesso qua è difficile un attimo di perché devo covacciarmi dobbiamo prendere tutte le cose dobbiamo prendere tutte le cose ah ci sono più doppio salto non fa molto capottono ahahahah quante quante idarità è un gioco di sclero questo già anche gli altri piacevano sclerare figuriamoci questo anche se non prendo tutte le mele fa niente vero? uh 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 no l'ho mancata l'ho mancata una lina cosa faccio? eh niente questo è il rompere ok 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 è il rompere ok ok no ancora sono andata giù ma non dovevo no ancora paletta no guarda eh sì ho visto beh intanto ho già dimenticato una di l'altro si ma prendere tutte le casse non è che difficile è molto ma poi tanto offline lo facciamo con calma anch'io sono buoni si ma sono sempre del velo proprio sinistra sinistra eh ho scacciato cerchi vuoi provare tu cazzo cazzo brava vabbè è molto utile tutti e quattro non riesco aiuto 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 1 2 e 3 1 2 e 3 meno male anche l'ombra aiuta aiuta un sacco l'ombra adesso concentrata cazzo 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 destra destra madonna di play eh no che interrotta 5 minuti c'ho ma dai cazzo finisilo cosa faccio finito io no sennò spezza no foda noo no basta sono deconcentrato ragazzi c'è il terzo di belli però cazzo ne sono cento di belli io non ci voglio mai dire che l'ho sbagliata oh ahahahahah no no tu scambi la fata senti tira dritto e poi lo rifai tanto mai hai lasciato dietro le casse è inutile prendere tutto ho una ragione dai fili dritto o dio dai lo finisci dato che hai poco tempo come al solito ahia Per me è che sono difficili così qua, sono davanti o da dietro perché è lì invece che manca il senso per quanto riguarda. A me manca il senso per quanto riguarda. Sì ma è fatto apposta, deve, deve mandarti un po' più bene. Oh, niente. Oddio. Figa. No, tiglio. Madonna, sì. Vabbè, fai prendere tutte le passi, quel bonus. Ma quello di chi è? Sei tu. Vabbè, sei tu. Alla domenica mattina. Sì, tu vorrei dare me. No, la basta. Grazie. Eh, ma se non ci fosse quella sarebbe impossibile. E vacca. Come si fa? Così? Ma per forza. Come vuoi fare? C'è un'altra domanda. C'è un'altra domanda. Come si fa? Che vuoi fare, Franca, dai. Ti credo in forma. Ma guarda che è difficile. Basta saltare sul TNT, non esplode subito il TNT, eh. Lo so. Ah, prima di... È ricco. Quando è che ci salto su? È giù la botta. Salto su, vai in alto, poi... vai a far esare alte. Allora, ci faccio l'ultima di percorso un'altra domanda. Cos'è successo, ti perciso? Eh, perché l'ho toccato due volte io. Ok. Ti ridà, però. Fa vedere se ti ridà, ok. Ti ridà anche da... Tornato a sapere. Certo. Se no, è un problema. Non ci ho pensato. La mossa... Eh no, pensavo rimanessero lì, sti stronze. La mossa più geniale deve essere. Lo spegnere. Eh, adesso devo spegnere, sì. È possibile, no. Cosa? Ma no, tanto, cioè... Posso... Lo coco qua il gameplay, poi dopo lo attacco. Devo rifare lo schermo. Allora. Ok, ok, ok. La domanda. E' che parte spogliante l'aria. No, ma anche se ti potrei andare sopra lì. Ti potrei andare sopra lì. Buongiorno, ragazzi. No, vabbè. Allora interrompiamo qua. È partito. Vai, Lino, vai. Mi hai deciso di fare P1 e P2, ragazzi. P1 o P2? P2 è Lino. P2 è Lino. Però cambiamo perché... È un P-Lino. Ho fatto una cazzata. Sì. Cazzata. Bellissimo. Salta e premere 2. Sì. Ancora. Dio. Non ti preoccupare per me. Non so, stai lì. Posso fare? Idiota. Guarda, ragazzi, nel bonus non cazzo. No, è P2. Ma sei sempre P2, vai a cagare. È P2. È P2. Che bello, libera tantissimo. Piantala. Ma va che ti va in contrasto il cervello. È fatto. Lo so. Bellissimo. Molto bello. Ma se adesso provo a cambiare, vuol vedere se spodano anche le altre? No, no, non spodano. Ci ho provato prima. Non hai visto cosa è successo? No. Pazzo. Poi se si cambia, cosa succede? Cambia? Ehi, se cambio casco, è quello che ho fatto prima. Bravo. Ma, ma, ma. Dovevi saltare per fare. Allora, qui? Qua è molto difficile. Perché guarda, fai ancora? Schiaccia ancora R2. Lo so che è molto difficile. Non riesce a salire là in alto? Vuoi salire in alto? Ma, devo far così, guarda. Conta. Uno. Due. Tre. No, sai cosa dovevi fare? Dovevi fare la scivolata e il salto, secondo me. E andarci sopra. No, ho già lasciato l'altra parte. No, oppure ho... Non ho voluto in mente quell'altra cosina. Ragazzi, se ce l'ho io. La franca ce l'ho. Sì, però c'è scritto qui due lì, eh. Tanto farò una figura nel cazzo, ugualmente. No, poggio, secondo me. Dove giudere? Dove giudere? Cazzo. Che casino. Lo so, veniamo un po' come... Secondo te ci arrivo? No, non ci arrivo quella. Potevo essere un'idea, però. Un'idea del cazzo. La devi far scoppiare così. Non cazzo. Ma piantale, muoviti. Ma ci panno in mano la chitarra. 36 morti ha fatto Lino, avete visto? 36 morti Lino ha fatto. Ma che Lino? Non sei giocato più adesso, te. Lino. Non so se è scoppiato l'altro pianetì, eh, a sinistra. Mannaggia. Hai ragione. Viga. Viga. Signore. Togli? No, non ti fa... Ah, ti fa male. No, però dico così non so palare. Allora. Si ci sta come ho fatto io prima. Come hai fatto tu prima? Una cazzata. Tu salti e quando sei là cambi, così si spacca la cassa in alto e cambi subito per ritornare su quella giusta. Bella madonna. Cambi... Brava. No, ma c'è il doppio salto perché non hai fatto il doppio salto. No, l'ho fatto ma... Pagliata la schiacciata. P2 ragazzi ma sono io. E la stile. Aia, non... Dai, non ti ho neanche toccato. Ma io non ti ho toccato io. L'amore fraterno? Quello ti fa? Eh. Non io. Complimenti. Io che sta... Iga. Dobbiamo imparare meglio a giocare perché... Non abbiamo toccato bene. Iga. Bene. Che pari sto bonus. E lì no. Un bonus è il terzo schermo. È stato un bel acquisto ragazzi. Io gli darei un 9. Ma se non abbiamo ne... No! Sì, che diazio è papà. Mi sta facendo le lezioni. Speriamo non abbiano sentito. Stai qui tu un attimo. Stai qui un attimo. Ma noi il video dobbiamo metterlo su intero. Nonostante le cagate che abbiamo fatto. Tra l'altro. Tra l'altro... Anche ora dovremo spegnere il gameplay. It. Quindi? E andava bene come hai fatto prima. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque. Qua come fai? Ah, c'è sotto la... Iga, Lino. Lino è esperto ragazzi. Mancano due casse. Vabbè, però quelle lì. Sì, fa vento. Sto facendo scherzo. Entra lì. Oh, P2 ce l'ha fatta, eh. P2. Visto. Tra un po' forse becchiamo anche la gemma. Ah, sei arrivato da un'altra parte. Stai putto tranquillo. Sono due zone, franche. Vabbè, no? Passa a P1. P1. Qua è ancora attivo? No, l'abbiamo fatto, grazie a Dio. Non dobbiamo fare delle fulgine. Passa lì, a sinistra. Vedi che c'è quella tua manina, sposto. Però è il problema che poi, come stai? Secondo me torneremo indietro. L'hanno fatto una vaccazione, secondo me. C'è successo? Forse è più importante il baggiano. Io la puoi tirare indietro. Non penso. Dove stai facendo i giochi circinzi? Ti muovo o no? Oh, miracolo. Il Gadi. Ah, sì, no, è una zona... Soltanto la lì potrei prendere quelle casserie. Quindi è giusto. Meno male che la bistolina vai tu col cazzo di Cersenna. Eh, non ce l'ho. E com'è? E adesso? Vedi i partiti giù impiccicata con la spiaccicata. Secondo te? Col TNT. Ma dietro però si può tornare? Sì. E così vado... E no, però come faccio? È stato praticamente inutile perché non c'è nulla. Quello là dovevamo ucciderlo prima, secondo me. No, ma lasciamo stare quello lì. Lascialo perdere. Ok, lo lascio perdere. No, tutto questo è per nulla. Ho fatto nulla. Ah, fai. Tanto... Molto rumore per nulla. Cosa è? Quando fai i scorreggi? I piantano. E sicuramente bisogna andare a sinistra per forza. Guarda sempre l'ombra. Qualcosa indemoniare. E' straordinario. Sì, è così divertente. Mi rappiamo da una parte e poi dall'altra. Lei che? Che bravo. Tu poi lasciamo a calmare che mi sembra molto agitata. Cheat. No. Ma che ho voluto far così? È molto divertente. Tu poverina fa anche, non capisci questa cosa. Quindi non tornare indietro? No. Ok, lì. Vabbè. Allora, aspettiamo un attimo. C'è il check. Uno, due. Più uno. No, cazzo. Bravo lì. No, che cazzo fa? Prendi prima le... Eh, ma devo cambiare, oh. Prendi prima quale sopra e quale sopra. Quale sopra. Guarda là in alto. Guarda là in alto. Cazzo. Non ce la faccio più. Eh, infatti per questo pure lo farò. No, devi usare quella sotto, questa cazzo. Questa? Uh, mamma mia. Giusto? Ehi. Queste cadono, no, no. No, devi soltanto farli, farli sensazione. Vabbè, con calma un attimo. A meno che non dovrai fare la prova a tempo, se no, no, mi scordi. Ho visto. Quanta, niente baccate. Questo? Questo non è male. Ho già che muori, eh. Dove? Eh, se la facevi comparire, li crepavi, eh? Ah, guarda là. Ok, devo usare la... Sì, guarda. Nooo! Cazzo! Cazzo, sì. Adesso ho rifatto la telina. Ma che testa di cazzo! Io ho provato a saltare, perché salto sempre molto in alto adesso con le cassette, no? Dio, tre, quattro, cinque. Vai, ma ancora. Edes? Io. Ma è no anche tu Dovevi saltare molto meglio E ho sbagliato perché mi sarà Su subito No, quello non possiamo Lasciarlo lì però E una Guarda che sentono tanto i nostri amici Ho mangiato il pesce La piante Ma tu muorti? Ma sì Tristezza Uno Due Tre Quattro Cinque In realtà per venire più o meno Bisogna saltare su cinque Su quelli Ah perché se tu Ah ho capito adesso come funziona Quindi se tu non puoi bloccarlo Tipo Uno Due Tre Quattro Cinque Due Tre Quattro Cinque No Non sapevo Non sapevo Non sapevo Non sapevo Non sapevo Finanze scena di gara Madonna Madonna Che schiagno Madonna Madonna Che schiagno Eeeh Eeeh L'ho rischiata Occhio Eh niente Non si riesce Che cosa fai a prendere la chitarra per due secondi? Sai che non duro molto eh Non duro molto Uno Due Tre Quattro Cinque Eh Dovevi fare il doppio salto Non sai scena E mi hai detto Sici sul joystick No ma ragazzi vedremo delle belle Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Porca paletta No Perché? No Perché? Mi viene E' proprio bravo Sì perché è morta qua la me Quattro volte Quattro 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 E' qua? E' qua? E' qua? E' qua? Posso fare la scivolata intanto che No Come cazzo fai? I miei uccisioni sono sempre bellissimi Un Un Uno Due Tre Quattro Cinco Un Uno Tre Quattro Cinco Un 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 non c'è nessuno Io non penso, non è che ho fatto a me Il marino non c'è Ho fatto qualcosa Quasi eh, ma è impossibile però secondo me Cioè perché qui è il salto più alto per quel palo Anche facendo così Però con la cassa sotto La spinta della cassa E' un alto a 2 la cassa Dici come si riesce? Dai mi copia anche le uccisioni Mi divertiti Ce la faremo? Uno, due, tre, quattro, cinque Uno, due, tre, quattro, cinque Ma non si contava fino a dieci nell'originale Sì, vabbè, perché non ho bene Senti, era che tu sei morto in un modo molto brutto Ma che roba è? Beh, su hai contato fino a uno Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' E' il terzo fatto a bestimiale, vero? No ma In realtà è solo perché lo stiamo cercando di completare tutti Per le casse? Si Eh vabbè no Eh ma perchè si fai la schiacciata non ti... però c'eri e secondo me se lasciavi perdere la schiacciata ce la facevi Quindi tu lasciamo una lì dai Proviamo un'altra volta Ah no? Ah è indefinante Scusa prova andarlo a prendere diretto E poi ti ammatti E te lo dà, te lo dà lo stesso Scusa che mi piace Proviamo a trovare il modo di premio A presto E' un pochino Scusa 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 eheheheh giga tanto non saudica di gas ok no, è impossibile quindi avanti vai vai no, è impossibile vai avanti appunto non si può fare, a meno che tu non scendi dall'alto forse forse c'è un posto che scendi dall'alto ci l'ho pensato anch'io però verde cos'è? ci mancano due tutta la nostra fatica due cazze mancano forse si, magari bisogna davvero dall'alto peggio del solito o replay no niente, devo fare poi tutte da sola povera me povera me no, come? eh, eh, sta notica non ho sta notica no adesso dipende da qual'è il primo pc facciamo con lei? carlos ah, questo non lo sapevo e poi non lo sapevo pronto? crash compattatore oh cazzo vuoro maturas dai, non devi dire cos'è dai, non devi dire cos'è lo dico vediamo un po' questo livello com'è ho già paura eh, sai cos'è quello? no non so quando ci arrivo controller 1 lino cos'è quello? ho paura guarda dietro a te e va a portarla è vero? no è il nostro flashback è il nostro flashback cosa vuol dire eh? cosa fa il nostro flashback? dai non c'è più il nostro flashback non c'è più il nostro flashback ah, sono i livelli vecchi? sì tipo come il Ryman sono i livelli completamente tanti adesso c'è qualcosa, hai visto? ho visto la mia sono i livelli piccoli che bravo, carino che bravo, carino C'è un check Tanto duro poco io Tanto duro poco qua Già in rischiato parecchio Vigia Tanto duro poco Eh vacca come partita C'è un check Guarda prima in alto con noi Non lo so Non lo so Vigia Magari ci sono così le casse Ok Questo Prova un po' Prova un po' Ah in alto? Adesso quando ti vuoi tenere ticci pro Non lo so Non lo so Non lo so Tu sui ricordato di emina Non lo so Non lo so Cadono? Adesso o sinistra? Sì Madonna Madonna Perché se arrivati dopo il check Dopo devi dare la pagina di tre volte Non c'è più Non c'è più niente da no? No Oltre che quello cade No Questo? Bene 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 Allora Allora Sì 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 Abbiamo cercato di prendere tutte le casse E abbiamo sempre Che cazzo stai facendo? Sì Però le abbiamo presi tutte qua E questo è il fatto Ah e cosa ne sai tu che le abbiamo presi tutte? Eh? Che cazzo Cosa ne sai? Baretto l'hai appena fatto Eh? Che cazzo Non cazzo Ma ecco lì Si di sangue mmm Secondo me è lanto di tutte E Oh Ma è il suo peggio È il suo peggio Sì Sì Un schiavo per il terpetto Schiacciati in me, no? Perché c'è un buo Cioè, ti so che tu sei su questo Che cazzo fai? Il tunnel? Il tunnel? Iga! Non ha senso che io puoi andare in cassa e ho visto qualcuno qua Non me l'ho avuta puttane Vinci a livello? Vinci Vinci Bonus, se lo hai fatto tu immagino No No, piantala Cos'è? Ah sì, tutta No, sicuro Qua non si può cambiare Quindi non posso prendere quelle Quelli sono quelli che sono al titolo Ah, qui? Ok, sì, sì, ho capito Iga Dove nemmeno prendere quella in mezzo Tieni Qua c'è il P1 Poi di A c'è il P2 Invece Sì, però non è minato E sei di rosa Sei sempre tu Anche era un banco Sono di rosa? Era un banco Aspetta E adesso? E' questo Pianta? Perché non lo fai? Scusami Ma poi per lì Quanti a sua la chitta Mi hai scritto più uno La gente sente che stai suonando Non so se è contenta Stai strimpellando? Stai strimpellando? Perché non ha fatto doppio salto? Mannaggia Vuoi iniziare? No, ormai Si iniziare a iniziarlo Ma il bonus non vale per sempre? No, magari Niente Niente Non so mai Che devo prendere tutti? No, proprio te, no? Ah, devo usciare lì Le crassi Le crassi Ma smettile Prima scusami Con l'altro bonus Continuiamo a fare cambio Paletta Gli antitasti invece Non fanno niente Tipo triangolo Non fa niente Vivaldo Sì MoD Non fa niente Ok teams Cont influence Sono Autore Il Un Troc Mot front Mi meta Un Plog Non Che Questo qua però non è back No Ma quante c'è Sono dentro E qua Vai via salta via salta via Cazzo Ecco meglio che ci fosse quello Se no era un casino Mi è mancata una Hai visto? E dove sta? Scusami qua Ottimo Direi un lavoro con esemplare No dai No che fa dare E non so E non so Dove potrebbe essere Fai una run dopo Dove c'è anche il passo Scusami ma cominci il gioco Non è un stress Per me si Perché sai che io adoro Qui all'elma Si ho capito Ma non hai beccato Una gemma in tutte le altre Eh qua in alto Lo sapevo E quindi devi far esplodere Ah non è beccato L'ho capito che Però è una cosa D'abbiamo fatta dopo Dopo lo fai Dopo che ho più concentrato Tutte le cose che ho più di fare Qua? Eh qua è un casino Devi farlo dopo Davvero? Eh provaci Ah ecco perché Lo farò dopo Perché ne sapevo io C'è Adesso devo finire Gameplay Sì ma io taglio le parti Cioè io faccio vedere Che ce lo facciamo la prima volta Ah beh figo Ma E scusami Cioè è vero Nel senso uno che continua a perdere Non è bello da vedere Questo devo fare Oppure lo faccio velocizzato Come abbiamo fatto con Unravel Che merda è? Non so Cioè tu tanto non mi stai neanche cagando Cioè È P1 Facciamo le cose fatte bene È P1 Le cose fatte bene E allora C'è scritto P1 Il bolo scorso lo ho dovuto fare io Guarda non dico niente Che cosa fai capito? Devo giocarlo io Giorgio Non lo capito Eh? Tutti i doti gli occhi Non cazzo No Non ce lo fa cazzate Ecco sì Come è qua? No Sfida Salta in alto No Salta in alto Oh ragazzi Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Visto che qualcuno Non mi cagava di striscia Signorinello Vado Non fai Aspetta Eh La palanca è come Previdente Sono sui specie Cass E il pieno Finissimo Ah ma qua sono tutte Cass Ho visto adesso Un cekli Ma tanto sotto Non si cade No Spazio controllo Buon tu c'è anche No no God Assisti ce l'ho qualcosa Perché sta sparando Quello lì a sinistra Che non deve fare un cazzo C'è stata Tipo l'idea Certo Certo Perché se non ho messo qualcosa di A sinistra No eh Ah Di spin alto Ah cazzo Dio Dio No Dio Dio No Dio Che ho finito Papi giudici Perché E No E Dio Ah, è lì però... Ah, che è tecoccio per caldo. Perchè mi fa fare così? Ah, è l'unico modo. Ma non capivo. A destra, vado a sinistra. Chiudere a destra o a sinistra? Ma anche i dati. Ah, che devo fare a scivolata. Sì, ma prima di prendere il coso a destra. Certo, devi prendere il coso a destra. Eh, io non mi ha funzionato. Che caro. Dai, rifai! Ah no, fai di uno. Fai di uno. Facciamo le cose fatte bene. E' libera. E' libera solvaggio. Chissà come ci stanno divertendo. Venta il fuoco. Che lo fai? Ah, vado a dire c'è più diverso. Vado a dire che c'è più gente... No. Ah, va a dire che c'è più gente. No... ma 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 ora è lino ma 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 mi pensare forse di fare qualcosa con l'affara a sinistra ma 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 come si prende quella non so mica ma questo gioco qui è un casino visto avremo comunque mancato perché in alto non ci arriva esattamente come è stato non ci arriva sotto non so come nella forse si arriva sotto ecco ma si si è tramite lì eh però ah non è così semplice io sono scivolato a sinistra no e lì come fai? devi fare il salto doppio ah il salto doppio si si non c'è niente no 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 ho già fatto male ho già fatto male eh non so non riesco a farlo però fai da tu vabbè anche tu hai scritto delle due invece di delle due se no puoi anche andare avanti tanto non abbiamo preso tutte le robe infatti ma magari le mie le tre le dà eh in teoria così dovresti fare io guarda che guarda è mamma porca vacca eh niente vanno concentrato comunque devo sbloccare il gameplay perchè fa anche fuori in pace però perchè capisci non si può fare tutto subito bisogna vedere come fare anche andando avanti capito? poi magari sblocchi anche cose dopo perché c'è roba l'acqua quindi lascia perdo no? no adesso qui ce la fai forno però sì no devi fare il salto che ho fatto io giù xxx però guarda che è difficilissimo uuuuuh non ridere bisogna stare in alto salta in alto bisogna stare in alto? no non c'è bisogna rifarlo via un po' e adesso e adesso? che che come faccio a beccare quello dov'è? no no è figo non c'è via un po' via un po' Dovremo andare? Dovremo andare? Eh, 95 su 86 Visto? Se le mi ha lasciate indietro 20 C'è qualcosa che non torna, eh? Non è che c'è qualcosa che non torna quelle 2 e 3 che mi ha lasciato indietro? Ma smettila È stata brava, eh? Dobbiamo provare a fare un altro flashback? Si E poi, boh, mi sa che dobbiamo spegnere Ma veramente? Mezz'ora per fare flashback? Si, si prega meno? Ci vuole almeno un'ora e un quarto Davvero? Sì, prova adesso vedrai cos'è Ah, davvero? Ci vedrai così tanto Vedrai? No, il livello è molto piccolo ma riuscite Ehm Com'è che faccio? Dovrebbe comparire in basso Eccolo là Si trova negli anni 90 Torna Si torna Gioca a nastri flashback e aiuta Crash e Coco a superare i malifici esperimenti di New Corpets Vado? Hai? Vuoi cambiare la skin, eh? Beh, è perchè è per le mele che hai bloccato quasi Invece lei, com'è che ce l'ha? Ma questa sembra acceda in crank Cos'è? No, io voglio l'altro Vado Auguri Tu lo sai che cos'è? No, io non lo so cos'è Auguri E continua E continua Soggetto numero 218 Auguri Speriamo che senta bene il microfono Cagna Oh Poi li attacco tutti i video E faccio un mega video Un mega video Un mega video Un video Un video Un video Un video Un video Un video Pronto Registro dell'esperimento Primo test sul soggetto Ah c'è anche il tempo 1 2 3 4 5 6 Sì No Cazzo Le casse sono fatte per essere rotte Non sono una barriera impenetrabile Madonna che culo che hai venuto qua Tutto qua scolato Si rendi conto che sono 188 E qua Ma sono tutti così, cazzo Certo 1 2 3 4 C'è scritto P2 comunque Adesso non fai notare Non può barare Questo? Scusami C'è stato barare? Fai silenzio Uuuuuh Fai... Silenzio Ma che buco Fai silenzio No vabbè ma che culo Anche il chat point No P1 Davanti tu No dai Tanto crepi Oh per favore possiamo appennare tutte adesso visto che mi sono appennato un sacco e non mai più Non farò mai più un roba Poi dobbiamo appennare tutte qui No... Le vedi tutte a schermo con me Non sono come le altre Poi sei cannata Come ho cannata Scherzi Occhio 1 2 3 4 5 Prima vai tutto su No Vado tutto su? No... Non lo so... Si poi torni indietro e poi vai avanti Capito? Ok Ok Adesso tutto su prima Tutto su prima Perchè sennò dovresti andare giù qua Nooo Adesso com'è la sabbia? No No non ci vuoi Ragazzi Ma sono facili i flashback Ma come hai fatto il primo corpo? Mi è venuta da fare il quadrato Ma dai ma era una situazione improponibile Cosa? Ragazzi Valosbucinto mi piace Solo per questo Sì vale tutto Ragazzi solo questo Senza niente E' una pianta Ragazzi è soltanto culo questo Ma come hai fatto? Ma hai fatto delle cose assurde Hai visto? E' stata molto brava eh Rivala negli annali Qui ne hai provato 5 minuti 5? 2? Dai Cosa dai? Qua? Guarda che qua c'è un flashback Poi ce lo faccio fare a te il flashback Contento? Il primo è più facile Adesso lo sottovalo Adesso lo smerdi Sei proprio stroppo Sei salvata con un culo che non ti dice adesso E' vero? Ah no Ma non è vero? Qui ci chiede come funziona la coppia Io non lo so Chi è che ce lo chiede? I nostri amici? Si perchè c'è anche la battaglia che si può fare Però non so se si può fare online P2 P2 Toh P2 Toh Si Si Pass Vai Lino Lino prende il comando Lino Lino Perciò Schivolata Schivolata Forse così che si doveva andare a prendere il gambe P2 Questa è scivolata Dici che fai il salto più in alto se fai le disfacione Sì Anche di quello Non ci sono più Non ci sono più NON si può fare No, dovevi saltarci sopra Cazzo, adesso fai fare a me Tutto da capo Mi ha preso il volo con la motosega È un psycho Un fanatico No, sai È un Tink No Vabbè, anche il Tappu, guarda Il Tink Il Tink nano Sì Come quello dei Winx Ma Ah, eri troppo Eri troppo in profondità Ehi, che roba lì Eri troppo in profondità Ehi, che roba, a tappa Ehi, che roba Lì, che roba Ehi, che roba Ehm, non so qua. Il problema è qua. Cattassimo. No! E adesso? Ah, devo andare qua giù. Non c'è un check? Eccolo qua. L'ho chiamato. Prima prendo queste casse, eh. O dici che... Tieni, Tino. Tieni, Tino. Via a me. Perché quella prende fuoco? Ah, se prende fuoco non puoi prendere. Ok. Cazzo è difficile qua, eh. Non ce la faccio. Ma noi pensavo non potessi uccidermi la catena. Invece sì, il catenaccio. Catenaccio. Ah, vedi che la catena... La cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat. P2. P2. Eh, la catena. No, perché cazzo... La catenaccio. È la prospettiva difficile. Mi sembra che ci sia più avanti. Ok. Il mio problema è questo. Stronzo. Io da le banche. Ok. Adesso qua? Devo per forza far la scivolata. No. No. C'è, fanno sempre io le tassettine. Perché non lo scoprendo? Dobbiamo... Soprere prima le casse o check? C'è anche il bonus, eh? Fai tutto te adesso il bonus. Però qua sei insicuri che non si può prendere? C'è un problema? Qui si può prendere, no? C'è un problema. Forse perché con un certo numero di... Aspetta, fai vedere un attimo. Ma non c'è scritto perché, vero? Buon, adesso fai tutto il bonus, no? Hai finito, babbo? Sì. Si, si, ha soprattutto così che poi ci stiamo io, grazie. Asso. Hai toppato. No, non ho toppato. Sì. Ma casca, però. Vedi? E come fai una linea alti? Così. Perfetto. Devo farlo sempre io, giusto? Eh sì. P2. Dai, P3, non fa il babbo. Fa anche il babbo, P3, vuoi? Eh, giusto! Ci può stare davanti. No, non lo fai anche tu, P3. Dai, ti prego, mettilo. Poi mettiamo il P3, bene. Oh, che cazzo fai. Poi ti metto anche il P3, così poi si attiva da solo e tocca il babbo. Ma non ti preoccupare, babbo, noi ci divertiamo un sacco. Ma io devo andare a gioco, guarda. Lavoro ancora. Eh, io devo andare a gioco, guarda. Ma io devo andare a gioco, guarda. Sì, lavori ancora. Tieni, vedete anche il P3 lì. Ma tanto poi quando muori, tocca l'altro, non ti preoccupare. A parte per il bonus, che è un discorso un po' diverso. Io non devi... hai sbagliato il galino. A me piace proprio far così, eh. Maren. Come il cazzo? Ah, salto. Magari c'era anche qui in alto, magari c'era un'altra. No, cosa fai? Sono tornato indietro perché mi ha detto più in alto, più in alto e un'altra. E dovevi saltare bene in alto, dovevi? Lavoro prima ho fatto un'azione bellissima, ti sei perso la mia... Ho usato tutte le mie energie per un livello. Eh, sbaglio il tasto. E che poi dopo... Eh, dopo il problema è che non sappiamo se la nitro sarà la fine del bonus o la fine del livello. Quello fa. Tu sai cosa devi fare? Devi sfruttare quella cassa lì per arrivare sopra. Che vuol dire? Spina! Eh no, andavi sopra... Non riuscivi a andare sopra. Eh no. 34, 34. Eh no. Ma perché non... Non riesci? No, non mi dà lo spinto giusto. Ma se no, butta giù subito quello in alto con il quadrato e... E poi mi faccio scoppiare con il nip. No! Intanto ho il totem. Ah ah. Guarda. Vabbè, hai visto? Funzionare? Funzionare. Ok. Bonus. Ah, era lì? Ma va a fan... Eh no, però tanto non sarei potuto tornare indietro forse. No, hai sbagliato. No, vabbè, vabbè. Le abbiamo prese tutte, eh? Sì? Ok, io... Vai. Aspetta, andiamo a vedere. Non c'è una? No. Non hai uno suonare. Ah no, c'è una gemma. Che gemma? No, dico... Sì. Una gemma delle mele. Dici, babà. Qua fai? Babà. 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 Caro, amico, ti scrivo. Devi fare... Sì. Allora c'è un totem, guarda, così il babbo ci vuole il totem. Guarda lino, eh. Eh, vedo lino. Io non mi facciamo il totem, eh. Ma tu stai andando un po' casaccio, davvero? Casaccio? Vada. C'è il check and point, check and point, check point. Non ti visca il babbo. Tieni. Tieni, la OP3. Allora non ti preoccupare. Allora, così ti muovi. X salti due volte, hai. E cerchio... Tieni, babbo. Cerchio non... Ah, cerchio c'è Cucci per fare i doppi salti. Non ti preoccupare. E babbo. Devi andare a sinistra, là. E poi salti nel momento giusto. Ok. Possiamo capire i tasti. Sì, lino è stato molto bravo. Attenzione, il babbo ce l'ha fatta, attenzione. Lascia di prendere la fune, babbo, quando è il momento giusto. La fune è il momento giusto. Saltando. A sinistra. Sì. Vai. Era con X, quando... Con X, là, quando sei in fondo. Però in alto c'è qualcosa. Non andare in alto. No. No, non sei in fondo. Ok. Ma andava su? Più uno. L'avevo quasi fatto. Vabbè, l'avevi visto? Qua dove va giù? Non capisco. C'è un congelo in alto. Ah, ho visto, sì. Dentro. Ok, calma. Ma lì non è... Non è... Va tutto bene? Però non so... No, ma qua non c'è qui niente. Deve andare su e aspettare l'ascensore. Ci ha lasciato più uno. Ok. Adesso vado a destra? Eh, sì, è l'unica. Molto. Tocca l'ina. Tocca l'ina. Tocca l'ina. Venga, signor l'ina. Ah, là c'è la roba del tempo, poi. Siete bravi. Qua papà c'è la... Qua papà c'è la dare imbecillirsi. Tocca il babbo. No. Togliamo il babbo. È stato... Togli il titratto. È stato intenso. Togli il titratto. Togli il titratto. Il giocatore attuale è sventato di giocare con... Sì. Sì. Che pompo. Il giocatore attuale è sventato. Ah, le posso anche tenerlo così, va? Chiaro Qua non è chiarissimo Perché scompare il nitro quando fai... La nitro, come si dice? Nitro? La nitro? No, ma quel cazzo vuoi C'è un talent di tratto in alto, hai visto? Sale lo stronzo Ti piace, babbo? Sì, no Ma... È un po' difficile No, ma... Allora, fa vedere un attimo Ok Ah, devo far quadrato? No, forse devi saltare sotto Non ci arriva però Non ci arriva però Non ci arriva lì che va Va bene, non ci arriva O forse devi fare un quadrato Eh... E a parte che poi le casse non le abbiamo beccate Non le abbiamo beccate tutte No, non lo so, sai? Forse sì, eh Per quello che ho visto mi sembrava di sì Ok Ah sì, ce la fai No Dio Non so cosa c'è sotto Non so cosa c'è sotto È andata bene Sì, hai fatto spavere anche in tenizzo, non so come Non mi ricordavo cosa c'è sotto Ok, perfetto Vado, gli attienti? Eh sì Ok, svelace un altro qua No, hai capito? Aveva sbagliato Amberoni Ho svelato tutto Cosa c'è sotto Cosa c'è sotto? E perché tu non hai visto cosa c'è a sinistra Non hai sbagliato niente Non hai visto cosa c'è a sinistra Non hai visto cosa c'è a sinistra No, se ora fa lo scalo? No, no, ci arrivi, ci arrivi Sì Secondo te Sì, ciao Adesso non lo vediamo, eh Per favore, ciao No Passo che lavoro Ma perché tu devi cambiare? Ho cannato Se t'anno Per favore Per favore Eh, ciao Cosa? Vai Cambia Erdogan Adesso qua? E' lì sotto? Oh la madonna, ma come fai? No Poi non devi mai toccarlo Erdogan Oddio, sono Dovevi fare lo scalo? No, è impossibile fare lo scalo Come fai? Avere una potenza simile Dovevi scendere dall'alto magari, eh Forse me li saltava di là? Sì, sì, fa forte Di qua è molto meglio di no C'è la gemma in alto C'era la gemma Vabbè, ma devi essere Sandokan Però intanto c'era una gemma Sì, però adesso Cioè, scu... come... Eh, può fare le due? Ah no, pensavo che si togliesse il mito Oddio No, forse bisogna andare dietro Ah, dovevamo... dovevamo lasciare Cosa lasci? Cosa fai qua? Come fai ad arrivare lì? Forse devi buttarti adesso su quella... sulla... sulla... Eh? No, Franca Ma ti rendi conto del... di quanto spazio c'è? Non ci arrivi di in alto Da sotto Sì E quindi come fai? Ah no, no, no Perché devi essere accucciato lì, vero? Sì, salti per aria sarebbe Sì Oddio, oddio, è mica una roba del genere Perché hai giocato per i due adesso? Un carticino nero Ma... Fa provarsi, no Ma stai stagendo... Ma stai stagendo? Qui sono venuti alla chiudicina No, no... Diga ragazzi Ma... Ok Bene Ma sei oca? No Sono Franca Sì, così si può fare come ho fatto io prima Ho dei dubbi però... No, comunque là non ci arrivi saltando Lì comunque muove Il mio problema è che io non so andare lì Mi puoi metter lì, per favore? Mette... Come fai a metterti lì? Cazzo, c'hai il totem? Sì, così poi da fare la freccia si va a fanculo, eh Non devi fare scuola nel minimo, eh A fanculo Oh no Nanno li scopi a pre... Nanno lanno... Cosa fai? Non sono più capace Perché? Perché forse Non ci sei mai riuscita No, io no Bravo Ma sai che io sono un asso E sono quelle cose via Un asso E adesso però Adesso posso distruggere Ah no E le casse lì non le rompono Devi tornare dietro con quell'ascensorino lì Adesso Sì ma lì come faccio a romper quell' Infine si rompe il nitro Si rompe anche la casca E adesso però non c'ho il check Vai Vanti Questo qua cosa mi serve Ah ok per saltare adesso Vai E' un po' di culo per andare Ma non c'è E' un po' di culo 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 E' copyright, eh? Sì? E lo tolgo. Senti, eh? Io non ce la faccio. Sì? Sì? Rido, eh? Che grave la situazione. Sì? Sì? Allora, questo mi dovete fare con l'altro. Ho l'occhio. Ho l'occhio. Oh, allora qua... C'è il check. Guarda Dio. Non so se è fatto bene. Quello adesso si riprenda, no? Non capisco. Basta anche se c'è il quadrato, se vuoi. Niente, non usiamo... E' la prima gemma che abbiamo preso, comunque, eh, no? No. Dai. Ah, ma abbiamo preso il flashback perché non poteranno. Qua bisogna scendere, secondo me. C'è un boss. Dove ricorrere. Cazzo, adesso qua prima di prendere tutte le gemme. Sì? 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 Ma non c'è il check point? Non lo sai questo. Che figata. Ma non c'è il check point? Secondo me devi saltare o ci sono le pozze d'acqua. Silenzio. Ecco. In questo tempo non ti prendo ancora. C'è il basso di cono. Muori. Perché non muori? Ho visto morire. Fermati. No. Devi saltare con le pozze d'acqua, davvero, eh. Sì, ma devi star zitta con me. Ah, meno male questo qua. E' spogli. E' spogliato. E' spogliato. Molto. E allora? E allora? Basta non saltare più. Si, devi saltare con le pozze d'acqua, davvero, perché sennò hai più tempo. ti rallenta l'acqua ti conosci i canni e non becchi così le tasse non ho capito qualcosa di vero ok guarda la cosa che mi piace di me se vado io ho preso qualità di mancato si adesso si madonna eh vabbè vai fai un culo becca i rialentati con tutti quei robini per morire guarda che è difficile la botta sbagliato devo saltare second second Sì, non lo so Che cazzo, che cazzo l'ho saltato, guarda bene Quindi anche le casse in alto Non so come ho fatto a prenderle Tanta Polonia Calma, calma Ecco è, va averti che ragazze Ma lei ha distrutto e lui mi sa Ma però non te la puoi Se no ti butti giù E non quelle sei là, sì Erano quelle sei, lì no Erano quelle sei Allora le hai prese tutte stavolta Può darsi E che io adesso non so venga come te Io non so ne capace adesso Ah l'ho presa Tu l'avevi presa Ok dai 8 qua Io Ho più quando cannare Segui sempre nel mele che mi porto la passata Questa è la mia Se adesso c'è una set Ecco, vedi Ma mi credi sempre No, no, sono No, Lino ma doveva distruggere No, è un po' di distruggere Allora scusami Mi poteva evitare di prendere tutte E distruggereva lui tanto E appunto Senti L'hai presa Sì, ma quella lì alla fine Forse abbiamo capito Che va da tanta faccia Perché saltano lo stesso Cioè basta che vai sulle ranche Ok Il gatto Ti ha colpciato sul culo? Io lo vedo Qua non bisogna saltare Perché noi sbagliamo Noi sbagliamo sempre Non bisogna saltare Fa vedere quanti ne abbiamo Fa vedere Dici che non sono quelle sei lì? Ma non dirmi così Dai che proprio Dai che devo andare ormai Cioè devo spegnere Ho lezioni di yoga, no? Non l'ho preso Dai vai Sei tu quello che sai Esperto da questa parte Non sono esperto Poi noi Ti pianto Ah L'abbiamo chata Sì Vai fatti morire Fatti morire Cosa abbiamo fatto noi? Stati bravi Molto bravi Fino adesso No No? Fatti morire Il problema è che ci fissiamo Che prende il tutto E non ci piace Perché? Perché si muove 90 volte Grazie Cioè poi dopo invece Lo fai senza morire Ma bisogna fare proprio La sentita Ficchia 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 C'è, abbiamo preso la gemma allo sposto. Sei stata sulla tefana. Certo. Bello. Vabbè ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al nostro canale. E grazie a tutti per averci seguito. Buona giornata. Ciao da Frank e vai dentro.